Ciao, posso invitarti a uno spettacolo di racconti in teatro? Sono uno scrittore. Non le voglio vedere più con le 3-4 persone che vengono. Io ho bisogno di stravolgere la mia vita. E' Giove Assallo? Salve, è piacere, sono Fabrizio Tormina, sono un grandissimo ammiratore dei suoi libri, veramente. Stai attento però perché questa bramosia di successo ti potrebbe portare alla rovina. Ti devi godere ogni momento. Non si è scrittore dalle 8 a mezzogiorno e dalle 3 alle 6. Il tuo momento arriverà e io sarò lì in prima fila ad applaudirti. Tu sei la nuova scoperta di Vassallo, giusto? Hai già provato a prenderti i cazzi in mano? A prenderti i cazzi in mano? Ci hai già provato? Ma cosa c'è da nascondere? Io non ho capito qual è il problema. Da nascondere! Non ti fidare di lui. Qualsiasi cosa ti dica, non ti fidare di lui. Non posso pubblicare nulla, ok? Questa roba la devo buttare adesso, ok? La settimana scorsa mi hai fatto quella scenata ridicola su Rondini. Adesso mi porti questo. Mi senti o no? Non posso perdere più tempo. E non voglio perdere più tempo. Sono chiaro? Non ti riconosco più. Ti tratto male? Sì, mi stai trattando male. Sei sempre ubriaco, ti sembra questo il modo di comportarti. Ah sì, come devo essere? Devi essere più carino, un po' più normale con me. Carino, ora pure tu ti metti a dirmi cosa devo fare, cosa non devo fare, come devo essere. Fabrizio, tu sei cosciente del tuo comportamento? Capisci cosa stai provocando, sì o no? Capisci cosa stai provocando, sì o no? Capisci cosa stai provocando, sì o no? Capisci molto ibio. Capisci cosa stai provocrata. Capisci, fantastico i scolta uno scolta invece che loi con택so.